per poter ballare per la strada, per il terrore nell'attimo di un bacio, per tua sorella, per mia sorella, per le nostre sorelle, per cambiare i cervelli consumati, per la vergogna della povertà, per la disperazione di avere una vita normale, per i bambini costretti a raccattare nella spazzatura i loro sogni, per questa politica comandata, per l'aria inquinata, per Valiazr e i suoi alberi consumati, per Piruz e la possibilità della sua estinzione, per i cani tanto innocenti quanto vietati, per le lacrime inarrestabili, per la ridondante immagine di questo momento, per i volti sorridenti, per gli studenti e il loro futuro, per questo paradiso forzato, per i geni imprigionati, per i bambini afghani, per tutti questi per che non sono ripetibili, per tutti questi slogan che risuonano a vuoto, per il crollo di edifici finti, per la sensazione di pace, per il sole che risorge dopo lunghe notti, per le pillole contro l'ansia e l'insonnia, per gli uomini, la patria, la rifondazione, per la ragazza che avrebbe voluto essere un ragazzo, per le donne, la vita, la libertà, per la libertà, per la libertà. Say her name! Say her name! Say her name! Astassino! Khamenei! Astassino! Khamenei! Astassino! Khamenei! Borg, Borg, Barg, Khomenei! L'anat, barg, Khomenei! Morg, Barg, Khomenei! Lamat! Aborat, barg, Khomenei! L'anat barg, Khomenei! Kalia machte einen saقيologie della coopervazione che facevano fare più e sei stendere sul quale говорит sicuramente e la liberazione показывare i nostri i dettagli di centre complessi per l'anat du umano delamericano penso che c'ensi per le stig того tempo che udano